I giorni che chiudono l'anno 2023 e iniziano il 2024, che possiamo considerare dal 30 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024. Sono i giorni della creazione. Lo sciamanesimo megalitico svolge un rituale molto semplice, per indirizzare tutto quello che vorremmo ottenere di positivo nell'anno che inizia. Possiamo fare un elenco sintetico dei risultati che vogliamo raggiungere. Come svolgere il rituale? Accendi una candela bianca oppure rossa. Racconta al fuoco quello che hai intenzione di ottenere nell'anno appena iniziato. Ringrazia le grandi energie intelligenti che ti hanno aiutato nell'anno precedente e chiedi un aiuto per questo nuovo. Puoi anche scrivere i tuoi obiettivi, se vuoi. Puoi usare un profumo di agrumi, cannella e vaniglia. Spegni la fiamma con le dita. Fai questo rituale per qualche giorno, almeno tre. L'ultimo giorno lascia bruciare fino alla fine. Questo rituale è molto importante, è la continuazione di quello fatto in precedenza, che è stato un rituale di ringraziamento per l'anno appena trascorso. Rituale che se non avete ancora fatto, potete, da adesso, fare quando desiderate. Ringraziare è sempre una buona idea in qualsiasi momento.